In marco la categoria di EVP anno 97, si incontreranno le squadre Firenze Sud Sestiglianese. Ricordiamo che il torneo è sotto legge tra la Federazione Italiana Croco Calcio, settore giovanile scolastico, e si autrame nel patrocinio del calcio in ambito orientino. Riprendiamo il cameraman! Associazione Ondus, che si insegna con i suoi volontari su tutto il territorio ad aiutare i pazienti affetti da patologie temporali e psicologicamente, e sicuramente che psicologicamente. E lui è domina!